E' stata emessa la sentenza, pochissimo tempo fa è stata emessa la sentenza. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni per Francesco Schettino che andrà in carcere e gli avvocati nel pomeriggio avevano detto se fosse stata confermata la sentenza di condanna così come è stato Schettino si costituirà, si sarebbe costituito un minuto dopo. Ha confermata la sentenza di condanna per Francesco Schettino a 16 anni e andrà in carcere. Tra poco per lui si apriranno le porte del carcere.